In fin dei conti, io sono Pietro, il possente! Tornerò tra pochissimo! A che ora è? La cena è elegante? Oh! L'allora lucente e dorato di Pietro! È proprio quello che mi serve per la nostra cena! Vero, Paperina? Nei prati insieme a lei, ai suoi amici e alle sue caprette! I feel a celebration coming on! Ciao! Siamo il team Umizumi! E stiamo preparando AutoUmi per una grande gara! Il Gran Premio Umi! Guarda chi sono gli altri partecipanti!